A proposito di Forza Italia, lei nel caso si andasse ad una crisi e quindi eventualmente facciamo con tutti i sei del caso, ad un voto anticipato esclude che possa riproporsi la formula Lega Forza Italia e Fratelli d'Italia, la Lega correrà da sola come credo anche Fratelli d'Italia. Guardi, noi siamo pronti a ricostruire il centrodestra se ci sarà il buon senso e la ragionevolezza da parte dei nostri alleati ma non abbiamo paura anche alla corsa in solitaria perché vede i consensi gonfiati li abbiamo visti anche ai tempi di Renzi, però oggi le leadership si dissolvono in poco tempo, oggi sicuramente Salvini gode di un grande consenso nel Paese anche perché ovviamente il confronto con Di Maio è un confronto facile, ce lo vogliamo dire, il Movimento 5 Stelle non ha prodotto nulla, si è contraddetto rispetto a tutte le promesse che aveva fatto in campagna elettorale e poi ha una classe dirigente non formata nelle arene dei comuni, delle regioni e quindi c'è poca preparazione e quando si chiacchiera siamo tutti capaci, quando poi si tratta di governare bisogna avere anche un minimo di competenze e di esperienza e sicuramente la Lega è più attrezzata, ma se andiamo a vedere i numeri che fotografano la condizione degli italiani, questo Paese è in un profondo stallo, è in stagnazione, anche i numeri sull'occupazione davanti ai quali il Governo ha brindato, vogliamo dirci che vedono un aumento del numero delle ore di cassa integrazione e sostanzialmente un mutamento da contratti a tempo determinato, a tempo indeterminato a fronte di tanti licenziamenti perché grazie alla causale voluta da Di Maio nel decreto dignità, tanti giovani sono stati licenziati perché le aziende non erano nelle condizioni senza aver abbassato il costo del lavoro di assumerle, quindi di fronte a questa situazione Forza Italia ripropone il centrodestra che è stato votato dagli italiani in tutte le ultime competizioni regionali. Quindi lei dice che noi lo riproponiamo eventualmente come formula, poi se non ci vogliono correremo da soli. Se Salvini pensa che basti la destra governare questo Paese, auguri, noi siamo pronti a rappresentare quei 22 milioni di italiani che non sono andati a votare e che non si accontentano della felpa piuttosto che dei toni urlati di... E... E...